Benvenuti nel mondo Dodan. Dodan è un marchio di orologi francese fondato nel 1857 dallo svizzero Alphonse Dodan, con una lunga tradizione nella produzione di orologi militari, aviatori e cronografi. La gamma di modelli Dodan è vasta, ma i segnatempo più iconici del marchio sono il Type 21, ispirato agli orologi da pilota degli anni 50 e 60, e il Type 23, dal design più moderno e sportivo. Il Type 21 presenta una cassa in acciaio inossidabile, un quadrante nero con numeri e indici luminescenti, una lunetta in acciaio inossidabile e un cinturino in pelle. Questi orologi sono spesso associati alla leggendaria pattuglia acrobatica francese Patrouille de France, che indossa gli orologi Dodan durante le loro esibizioni. L'orologio Type 23, invece, mostra una cassa più grande con un quadrante nero con numeri e indici luminescenti e un cinturino in gomma. Questi orologi sono ideali per le attività sportive, grazie alla loro resistenza all'acqua fino a 100 metri e alla loro robustezza. Dodan utilizza movimenti svizzeri di alta qualità nei suoi orologi, come il Valjoux 7750, che garantiscono una precisione elevata. Inoltre, l'azienda presta particolare attenzione ai dettagli nella produzione degli orologi, utilizzando solo materiali di alta qualità e tecniche artigianali per la creazione dei suoi prodotti. In sintesi, Dodan è un marchio di orologi che unisce tradizione e innovazione, con una lunga storia nella produzione di orologi militari, avviatori e cronografi. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità dei suoi prodotti artigianali, Dodan è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di orologi che cercano un prodotto unico e di alta qualità.